mercoledì 6 settembre buongiorno a tutte buongiorno a tutti ore 9 42 di questo mercoledì 6 settembre pensate il mercoledì che da ufficialmente via al ritorno di fuori dal core di mario giordano amici ciao a tutti buongiorno attendendo mario giordano partiamo la mattina carichi con appunto le prime pagine dei giornali e pensate sulle prime pagine dei giornali o meglio di un giornale in particolare la verità si parla proprio di fuori dal coro e di questi documenti sciocche che riguardano gli ecoteppisti da chi sono finanziati da chi sono pagati da che gli arriva la paghetta per fare quello che fanno lo fanno perché pagati o fanno il teppismo ecologico perché credono veramente quello che fanno ogni dubbio è lecito non ho la maglia da lavare ciao a tutti buongiorno stefano ciao lore ciao filippo ciao vera vedo i primi collegati prima cosa da fare ovviamente dubbi stancherò mai di dirlo condivisione ma perché vi chiedo la condivisione perché è da un po di tempo che mi sono accordo ci siamo accorti di una cosuccia no che le notifiche delle dirette di robbi giusti parlo in terza persona parlo quindi fateci caso le le mie dirette non vengono inviate le notifiche delle mie dirette non vengono inviate le persone ho visto ieri un amico che dice robbi ma non ti vedo in diretta devo cercarti io è perché non mandano le notifiche e ogni dubbio è lecito anche in questo caso problemi di algoritmo volontà non far vedere la verità volontà non far parlare alla gente del dubbio di questo dubbio lecito ogni dubbio è felicitissimo intanto ciao ragazzi buongiorno 25 gradi da catanzaro abbiamo catanzaro collegata abbiamo bergamo collegato abbiamo torino collegato carlo clemente non lo vedo ancora da castellaneta attendo la puglia collegata attendo la il piemonte collegato attendo qualche istante per la notifica arriva sempre sempre in ritardo ci siamo intanto siete contenti prima domandona siete contenti del ritorno di mario giordano se la risposta è positiva scrivete sì sì grande mario giordano scrivete qualcosa relativo a mario no perché ritornerà questa sera dopo mesi finalmente ritorna oggi mi è arrivata la notifica della diretta dopo mesi dice stefano di martino ciao buongiorno stefano mi fa piacere ciao genni 16 gradi abbiamo torino collegata abbiamo legnano collegato latina collegata da firenze firenze collegata amici vedo i primi collegati è un po da tutta italia ora le ricevo dopo un periodo in cui non le vedevo più angelo prino e vedete ogni dubbio è lecito amici ogni dubbio è lecito dal belgio abbiamo maria dal belgio 22 gradi ciao maria ciao cara come va in belgio buongiorno a tutti eccoli qua poi ci sono gli haters che dicono perché saluti perché educazione perché mi salutano ed educazione salutare perdono minuti in saluti far capire da dove siamo siamo in tutta europa amici da tutte legnano verona eccola collegate claudio da legnano verona abbiamo milano collegato con laura filippe ciao laura e che abbiamo ancora dalla toscana abbiamo dalla toscana abbiamo le carmen ciao carmen non vedo carlo clemente e me l'hanno escluso ormai carlo clemente me l'hanno disperso nel nulla e non vedo carlo clemente e paschetta vabbè arriveranno i miei fidi fidi inviati meteo da bologna abbiamo ivan fabbri ciao grande ivan davarese rosa vi vedo da tutte le parti dalla romania abbiamo claudio doruta e cuceo dalla romania ci siamo assolutamente giordano tutti felici di vedere reggio emilia abbiamo sandra ciao cara sandra ti aspetto venimi a trovare domenica mi raccomando ciao cristian ciao cristian ciao pino ok andiamo alle notizie pronti appunto la verità guardate la verità di tira fuori questa notizia scandalo l'esclusiva di fuori dal coro in onda stasera attenzione i documenti shock degli ecotepisti prepariamoci al salto di qualità reportage all'interno di ultima generazione gli attivisti che bloccano le strade si predica il superamento del gradualismo e una postura rivoluzionaria intensificando le azioni di protesta e per chi è fedele arriva un compenso attenzione un compenso fisso lo leggo qua un compenso fisso di 800 euro secondo queste indiscrezioni di fuori dal coro quindi fondi cinema petroliferi finanziatori e network internazionali dietro le brigade verdi attenzione perché notizia scandalo è notizia scandalo di fuori dal coro e riportata dalla verità perché questi ecotepisti in sostanza sarebbero finanziati da chi ha interesse a fare questi giochi no magari chi deve vendere ogni dubbio è lecito chi deve vendere qualche cosina di elettrico magari ogni dubbio è più che lecito quindi capiremo io non vedo l'ora di vedere Mario Giordano cosa succederà questa sera se anche voi la pensate così condividete condividete ok che andando a vedere però altre cose attenzione mistero guardate questo articolo qua di di della verità guardate guardate questo articolo della verità il mistero in Gran Bretagna troppe morti tra giovani vaccinati con quattro dosi l'esperto dell'istituto superiore di sanità lancia l'allarme sui dati inglesi che l'italia non raccoglie tra 18 e 39 anni più decessi rispetto ai non inoculati attenzione io non dico niente è un articolo che sto leggendo quindi che ne capiremo di più io non capisco però perché perché porco giuda perché in italia non ne parlano perché in italia non vogliono vedere la realtà non vogliono analizzare quello che sta succedendo intorno a noi io me lo chiedo perché che interessi hanno ogni dubbio è lecito perché nessuno ne parla viva Mario dicono da Milano vai ragazzi ciao a tutti buongiorno avete capito mamma mia torniamo queste notizie questa notizia veramente pesante veramente pesante cambiando quotidiano andiamo a vedere il tempo il tempo che dice blitz lo stato di caivano dopo il blizzi fondi forze dell'ordine a parco verde sequestrate armi e contanti meloni mai più zone franche piante dosi e solo in inizio l'esecutiva stanza 30 milioni per riqualificare il territorio la solita sinistra rosicona critica l'operazione del governo questa è solo propaganda al centro invece operai bucono la muraglia cinese per fare una scorciatoia verso il lavoro si sono bucati le loro muraglia cavoli loro nell'unione europea oltre leggere sta notizia oltre un milione di migranti e la stima dell'agenzia europea crescita del 28 per cento mai così tanti dal 2015 ma veramente veramente amici veramente andiamo a vedere il messaggero che dice invece messaggero intesa sulla manovra sobria i partiti di governo rinunciano a misure spot tutte le risorse per cune tredicesime arabia e russia tagliano la produzione petrolio a 90 euro più vicino al bonus benzina amici questi qua ci stanno vera mi è arrivata la notizia ieri sera e mi è arrivata la notizia di sera che sto cercando di verificare dall'irlanda mi è arrivata dai soliti ingegneri dell'ait i grandi ingegneri dell'ait che mi aiutano sempre mi è arrivata questa notizia che la russia avrebbe fatto una vera e propria azione di guerra nei confronti dell'italia tagliando la settimana scorsa il 40 per cento il nostro gas attenzione che se fosse vero sarebbero cavoli amari per questo inverno sto cercando la fonte quindi questa è un'indiscrezione che mi hanno detto non dico che sia notizia ufficiale ma io la renderò cercherò la notizia ufficiale per rendere tutti la cosa chiara tornando le pagine di giornale amici cambiamo quotidiano andiamo a vedere che la lista dei quotidiani completa andiamo a vedere ok ci siamo siamo qua andiamo a vedere il libero libero c'è una notizia che mi fa arrabbiare particolarmente guardiamone insieme perché guardate questo titolo di libero se non fa arrabbiare no non vogliono la queste libero non vogliono la polizia la lotta alla camorra ditemi voi se è normale la lotta alla camorra indigna pd e saviano il segnale del viminale a caivano 400 agenti se tacciono i palazzi i democratici non si bonificano le persone lo scrittore sceneggiata allora io properei una cosa io properei di mandare la sul territorio direttamente saviano che visto che predica bene non fa un cavolo la jlane insieme a saviano abbracciati loro due insieme vanno a risolvere il problema loro visto che sono dei fenomeni e riescono a risolvere il problema eh saviano perché non vai tu saviano eh lo mandiamo facciamo un applauso a saviano bravo saviano trova tu la soluzione visto che sei il genio della lampada vorrei vedere il genio della lampada di saviano quale soluzione trova se non mandare degli agenti in delle zone piene di criminalità eh vero saviano fate un applauso a saviano amici applauso a saviano perché pur di contestare hai capito non da soluzioni contesto e basta veramente sì sono in diretta ora sono in diretta o incredibilmente tano tano sono in diretta ora ciao eccoci qua il segnale poi dieci anni andiamo a vedere invece qua si parla di grazie al libro di vannacci è incassato 600.000 euro grazie al libro vannacci è incassato 600.000 euro alla faccia du qua mamma mia hai capito eh povero poi ha fatto bene ha fatto bene ha fatto bene perché ha detto ha fatto il libro dove dice la verità ed è giusto che incassi dei soldi cambiando quotidiano vogliamo il giornale amici vedi vogliamo il giornale siete in direttissima sì amato attenzione riapre pure la strage di bologna qua ci viene fuori un casino eh l'ex premier rilancia le accuse a parigi per il 19 ha battuto amici è tutto vero tutto vero diciamo leggermente se non vedete guardate l'ex premier rilancia le accuse a parigi per il 19 ha battuto dalla bomba del 1980 all'orlandi troppe verità incomplete in sostanza cosa cosa sta nipotizzando che in quegli anni per nascondere ustica abbiano fatto organizzato tutto la strage di bologna amici ho la pelle d'ho 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 perché a pensare queste cose mi viene un nervoso un nervoso c'è intanto scusa un cazzo scusa un cazzo cioè è un erro hanno ucciso dei nostri italiani nella strage di ustica e i francesi oggi dicono macrono scusa l'italia scusa un cazzo dovete risarcire con milioni 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 di euro tutte le famiglie delle vittime scusa un cazzo macronne soldi soldi su soldi non risolvono non torneranno i morti indietro ma soldi 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 in ginocchio coi soldi scusate che qua mi stanno chiamando mentre siamo in diretta perdonatemi non l'ho messo in silenzioso anzi lo faccio in questo momento ok eccoci qua ho silenziato se vi rendete conto vi rendete conto cioè noi dobbiamo veramente scusa scuma per favore ma per favore cambiando quotidiano vediamo qua il fatto quotidiano uno su cento ce la fa senza reddito parte la piattaforma del governo lavori precari e solo al nord uno su cento ce la fa a sud poche centinaia di offerte per centomila famiglie e iniziano andare in piazza guardate ci sono stati anche degli scontri e tutto e vabbè che dire che dire questa qua è colpa è colpa semplicemente delle politiche sbagliate dei 5 stelle che invece di produrre con tutto rispetto invece di produrre lavoro hanno prodotto un reddito da poltrona il reddito da poltrona purtroppo ha una vita corta non abbiamo i soldi per mantenere soprattutto perché spegniamo in armi anche anche perché spegniamo in armi spendiamo in emigrazione e manteniamo chi arriva quindi alla fine manca le risorse per gli italiani e questo è indiscutibile però detto questo sulla poltrona la gente non ci deve stare deve andare a lavorare detto questo si trova poco lavoro a sud ma è normale il costo del lavoro in italia è improponibile come fa un'impresa sud che già lavora meno di un'impresa nord mantenere dei dipendenti al 2.2 di aumento rispetto agli stipendi uno stipendio da mille euro costa al datore di lavoro 2200 euro al mese come cazzo facciamo ad assumere della gente se la meloni quando la meloni capirà al sud diamo una mano al sud bene uno stipendio da 1500 euro di contributi ne paghi 500 e arrivi 2000 in totale allora forse la gente potrebbe assumere eh cazzo ci arrivo io ci arrivo un dj vabbè che è un comico che suoni pianoforte con gli attributi e la chitarra nudo è diventato presidente dell'Ucraina quindi di cosa parliamo un altro che si fa il bagno nel sangue e che è diventato presidente della russia ok berlusconi è diventato presidente del consiglio in italia quindi di cosa parli siamo tutti uguali amici tutti uguali quindi anch'io posso avere buone idee anche se sono un umile dj che fa informazione quindi detto questo basta ridurre le tasse sul lavoro caro meloni proprio che non fai dai una mano che chi ha chi se uno assume uno che ha avuto il reddito di cittadinanza fino a ieri per i primi tre anni non paga contributi sul lavoro magari tutti si si provirebbero per assumere degli ex detentori di eredito ma non lo so io queste proposte non le ho viste o almeno non le ho lette magari ci sono magari ci sono no vabbè ogni dubbio è lecita anche su questo scusate per la mia propostina al volo ma ogni tanto ne lancio anch'io e quindi il fatto quotidiano se la piglia con reddito l'unica battaglia che ha adesso il reddito non c'è più berlusconi quindi non sa più di cosa parlare andiamo a vedere chi c'è ancora qua direi di chiudere con e volevo cercare la la stampa eccoci qua quando dico treno spostatevi attenzione guardate questa cosa qua in un video le parole del capo della squadra rfi nessun lavoro durante la circolazione quando dico treno spostatevi cosa vuol dire c'è veramente prendise le immagini shock prima della tragedia quattro delle vittime non potevano lavorare nel cantiere veramente una cosa triste amici triste poi manovra della lega ci riprovano con condono mettono tutti le mani avanti vogliono fare la lega quindi la lega prova a fare un condono e vabbè va bene nulla di interessante sul volevo vedere se trovavo la resto del carlino ma direi di di no vabbè comunque la notizia principale di acqua eccolo qua perché c'è una notizia interessante il governo studio un bonus benzina questo è interessante allora che cosa è successo fare pieno sempre più caro e ieri cresce ancora il prezzo del petrolio l'ipotesi è un contributo riservato sui redditi più bassi aumentare le pensioni minime tagliare l'irp vabbè detto questo però vogliono anche qua c'è ripresa la notizia se dico treno spostatevi vabbè questo video shock prima della strage sui binari le parole del capo scorta veramente triste la vicenda e bonus benzina bonus benzina amici dovremmo chiederci perché aumenta la benzina non sto bonus benzina perché ci sono un casino di accise ci sono un casino di accise cioè fare un bonus bene fare uno sconto sulle acce io non capisco solo ai più poveri quando in verità la benzina è un problema dei lavoratori di chi lavora di chi fa dei chilometri che hanno reddito quindi non prendiamoci per il culo ragazzi non prendiamoci in giro cortesemente ve lo dico cortesemente detto questo io non vedo l'ora che sia stasera per vedere quello che hanno fatto a fuori dal corpo che c'è questo documenti shock sugli ecotempisti verrà fuori la verità su chi sono gli ecotempisti da chi sono finanziati preparatevi buongiorno anche a te anastasia preparatevi perché è veramente un casino veramente un casino preparatevi con le inudizioni di fuori dal coro ci sentiamo più tardi mi stanno suonando vado aprire non so chi sia vado aprire vi voglio bene ciao a tutti buona giornata a più tardi mi raccomando condividete commentate condividete soprattutto perché la notifica arriva al 1 su 1000 quindi diamoci una mano noi a far arrivare il la diretta agli altri perché non vogliono farmi vedere sono troppo simpatico e bello bello simpatico simpatico sono troppo ciao a tutti buona giornata